Assessore, questa mattina in conferenza stampa avete presentato il cartellone degli eventi culturali che ci saranno a Pescara nel periodo natalizio. Tanti gli eventi in programma? Sì, gli eventi in programma sono tanti e sono soprattutto rivolti ad una vasta e variegata cittadinanza, perché io ho cercato di soddisfare quelle che possono essere le aspettative un po' di tutti, a partire dai bambini, a partire dai più, un pochettino dai giovani, quindi un po' più grandicelli e anche per quanto riguarda, rivolta anche alle famiglie, quindi anche ai genitori. Ci saranno delle iniziative in giro per la nostra città, nella nostra città il centro, ci saranno dei cori gospel, ci saranno delle manifestazioni degli artisti di strada che faranno delle manifestazioni, degli eventi nella parte di Pescara Vecchia, ci sarà un evento molto importante anche quello della presentazione di un disco da parte di Michele Di Toro, il 18 all'Aurum, alle 18.30 e poi una manifestazione a cui ho tenuto tanto ed è stato un sogno per me realizzarla è quello di fare un mini festival delle orchestre concertistiche della nostra città dei ragazzi, perché per me è importante dare spazio ai giovani, far salire sul palco i giovani perché studiano tanto, fanno tantissimi sacrifici e quindi è giusto che anche loro abbiano un ritorno delle soddisfazioni e questo verrà fatto all'Auditorium Flaiano il 21 e il 23 dicembre alle ore 21. Poi c'è anche una rappresentazione teatrale organizzata dalla Endas, il Folletto Pasticcione, dedicato un po' più ai bambini e si terrà alle 18.30. Ci sono tante manifestazioni, tanti cori gospel, tanti concerti all'Auditorium Petruzzi, all'Auditorium Cerulli, al Teatro Cordova. Insomma, chi più ne ha più ne metta e ho cercato di soddisfare un po' le aspettative di tutti quanti. Sarà un Natale gioioso, un Natale festoso ed è bello che sia così perché abbiamo tutti voglia di uscire da un periodo buio e quindi di stare insieme e di festeggiare.